Conforti, in questo convegno, vuole portare la sua esperienza nella realizzazione della sicurezza a 360 gradi, quindi nel titolo la gestione intelligente del denaro in sicurezza vuole proprio sottolineare questo aspetto. La presenza di denaro negli esercizi commerciali e in qualsivoglia località dove si può accumulare e tenere il deposito durante periodi non presidiati richiede senz'altro la sicurezza e quindi un contenitore adeguato perché possa proteggere questo valore. Conforti quindi propone delle strutture particolarmente resistenti, studiate all'uopo e soprattutto gestite da un'elettronica sviluppata apposta che si collega sia con i portali della banca per l'accredito diretto sia con il servizio di supervisione tecnico e di sicurezza, che è il sistema mercurio sviluppato da Conforti, per cui la cassaforte diventa un elemento intelligente anche nella sicurezza, non solamente nella gestione del denaro. Le soluzioni vengono sviluppate con il cliente, quindi ad ogni taglio di necessità esiste una soluzione specifica e il tutto coordinato con un progetto d'insieme che riguarda anche l'impianto d'allarme, le reazioni che devono esistere a seguito degli allarmi e alla gestione comunque di un servizio di manutenzione accreditato.